Come ogni vittoria calcistica che si rispetti, anche la gloriosa finale dell'Italia agli Euro 2020 è stata festeggiata in ogni parte della città dei due mari, ma soprattutto in centro. Ancora prima della proclamazione ufficiale della squadra azzurra, infatti, tutti i tarantini sono corsi nell'amata Piazza Ebalia, ormai simbolo di successi sul Prato Verde.